Perché sostengo la tesi che Scalfaro è stato il regista? Io non uso volentieri il termine trattativa. Se lo uso è perché non voglio dare l'impressione di non pensare che non ci sia stata una trattativa. Lo penso, ma quello che penso è che, ripeto, l'ho detto prima, la convivenza, la coabitazione, il compromesso tra Stato e mafia è stata la regola del dopoguerra con ictus di reazione da parte dello Stato dopo l'assassinio di Dalla Chiesa, per esempio, del generale Dalla Chiesa, ma in particolare nel periodo Falcone, Falcone magistrato e Falcone al Ministero della Giustizia e dunque Falcone Martelli-Scotti. Queste sono state le eccezioni. Perché mi sono convinto? Non lo pensavo allora. Nel 92 non pensavo questo. Io quello che ho saputo nel 92 è quello che mi ha riferito una dirigente del Ministero, la dottoressa Liliana Ferraro, che Falcone aveva voluto come sua vice all'ufficio degli affari penali del Ministero della Giustizia. Siamo dopo la morte di Falcone, verso fine giugno del 92, la dottoressa Ferraro mi informa che è venuto da lei un capitano dei Carabinieri, capitano De Donno, che le ha detto Senta, noi stiamo agganciando Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, noto mafioso, anzi secondo Falcone il più pericoloso, perché era il più politico dei mafiosi e il più mafioso dei politici. E questo capitano De Donno dice alla dottoressa Ferraro le seguenti cose. Bisogna affermare le stragi, noi abbiamo agganciato Vito Ciancimino, può essere una collaborazione utile, però abbiamo bisogno di una copertura politica, noi intende il capitano De Donno, io e il mio superiore, colonnello Mori, abbiamo bisogno di una copertura politica che ne pensa, non so, ne può parlare al ministro. Come la dottoressa Ferraro me ne parla, io dico a dottoressa tu intanto informa Borsellino, che era il procuratore aggiunto di Palermo e che era, come sappiamo tutti, collaboratore e amico di Giovanni Falcone, l'uomo destinato a succedergli, perlomeno nelle mie speranze, alla guida della Procura Nazionale Antimafia. Che io penso a richiamare all'ordine questi ufficiali dei carabinieri perché stanno uscendo fuori dal seminato, si stanno prendendo delle iniziative che non sono di loro competenza e quindi ne ho informato il ministro degli interni Mancino. Nel mese di ottobre il capitano De Donno torna al ministero a parlare con la dottoressa Ferraro e questa volta chiede niente po' di meno che venga rilasciato il passaporto a Ciancimino. A quel punto io di persona chiamo il procuratore generale di Palermo competente nel rilascio dei passaporti a persone che hanno problemi con la giustizia, si chiamava Bruno Siclari, diventerà poi procuratore nazionale antimafia, gli racconto la storia, gli dico quali sono le mie contrarietà e il procuratore generale di Palermo fa riarrestare Ciancimino che era stato arrestato e poi scarcerato. Questo è quel che io sapevo allora. Quello che sono venuto a sapere più di recente in questi ultimi tre anni dal 2009 ad oggi in un crescendo di rivelazioni è che quegli ufficiari dei carabinieri agivano sotto il comando del loro comandante generale, generale Subranni, quindi non era un'iniziativa solo loro. A sua volta non credo proprio che Subranni agisse per conto proprio, mi sembra assolutamente improbabile. Grazie a tutti.